Buongiorno carissimi, bentrovati in questo settimo giorno dell'ottava di Pasqua, oggi è il 31 di dicembre, ci dirigiamo verso la fine, le ultime ore di questo anno 2022 e la liturgia della parola ci mette dinanzi, come prima lettura, la prima lettera di San Giovanni Apostolo, siamo al capitolo 2 dal versetto 18 al versetto 21. Pilioli è giunta l'ultima ora, come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, difatti molti anticristi sono già venuti, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Beh, oserei dire che l'anticristo chi è? Colui o colei che in maniera molto chiara ha lasciato quella che è la fede cattolica per andare contro Cristo, quindi distruggere la sua sovranità. ne sono molti. Potrei dire oggi, forse in maniera un po' delicata, santo Dio o santo capodanno. Forse questo nostro metterci da una parte o dall'altra potrebbe dire anche qualcosa di noi. Perché riconosciamo a Dio qualcosa? Ecco perché a fine anno la Chiesa vive un tempo, che è un tempo anche di un bilancio, ma più che altro un inno di lode che innazza a Dio, il famoso Tedeum, noi ti lodiamo Dio. Siamo soliti certe volte, credo dal mio punto di vista, stare lì a centelinare quello che noi abbiamo fatto a Dio, quello che Dio ha fatto per noi. Io consiglierei oggi di vivere un momento di intimità con il Signore per poter scrivere anche su un piccolo foglio. Ecco, la lode che vogliamo innalzare a Dio. Dio chi è? Dio chi è per me? Dio chi è per te? Dio è l'Eterno? Dio è il Misericordioso? Dio è il Padre? Dio è il Dono Eccelso? Che cos'è? La lode è che noi vogliamo innalzare a Dio e riconoscere in Dio quello che Lui realmente è per la nostra vita. Forse sì. Poi sfoceremo nel ringraziamento perché se è Dio il Padre, io perché l'ho sperimentato e rendo grazie. Se Dio è misericordioso è perché mi ha dato misericordia. Perché spesse volte siamo lì a commiserarci forse un pochettino davanti a Dio, chiedere perdono per quello che durante l'anno non abbiamo potuto fare. Benissimo, c'è il sacramento della penitenza che bussa il cuore di Dio per chiedere misericordia, ma credo che l'ultimo giorno dell'anno sia un giorno per riallacciare quel nostro amore per Lui, quindi dare lode, lode al Signore, lode eterna, lode somma. Ecco, vorrei tanto, e io questo lo farò oggi prendere un foglio e scrive, ti lodo Dio perché tu sei il Santo, tu sei l'Eterno, tu sei... riconosciamo. Questo credo che sia la cosa più bella finanno che possiamo fare, rinsaldare la nostra fede e il nostro amore per Lui. Perché, come ascoltiamo nel brano del Vangelo di oggi, siamo al prologo di San Giovanni ancora una volta. In questo prologo ecco, il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dio si è reso visibile, Dio si è fatto compagno di strada e allora non abbiamo nient'altro che lodarlo per tutto quello che realmente Lui è nella storia della salvezza, nella storia della nostra redenzione. ecco, il Dio, il verbo che si è fatto carne e venne ad abitare a mezzo a noi, chiede di essere accolto, perché a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Bene, vi auguro così di vivere un giorno santo nella lode a Dio e nell'ingresso nel 2023 con una compagnia eccelsa, non soltanto quella della Santissima Trinità, ma anche di Maria Santissima, Madre di Dio. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.